Oggi giochiamo in casa, siamo al secondo giorno della fiera, sabato 11 maggio, abbiamo qui il presidente regionale FIAIP Emilia Romagna Gianluca Giordani e Emanuele Emanuelli, delegato regionale per l'estero, nonché presidente Parma. Benissimo, subito, a caldo le vostre impressioni sulla fiera? Sicuramente una fiera molto interessante, era molto importante essere qua, FIAIP anche in questo caso si è rilevata quella che è, cioè un'importantissima federazione che pensa ai suoi associati e di fatti la partecipazione che la mia regione ha subito accettato volentieri, anzi ha spinto e ha voluto fortemente, proprio perché crediamo sia assolutamente importante dare visibilità ai nostri territori, anche con l'estero, così come è importante creare opportunità per gli associati. Grazie Gianluca, Emanuele? Sì, grazie a tutti, grazie a Federico che ha dato insieme a FIAIP nazionale questa opportunità di partecipare a questa bellissima fiera, oggi tra l'altro c'è tantissima gente, è molto importante penso per FIAIP essere qui, come Emilia Romagna abbiamo accolto da subito l'invito a partecipare, anche diversi nostri associati in Emilia hanno pubblicato sul sito che c'è di A Place in the Sun sulla brochure e quindi è un segno che la fiera è stata accolta con benevolenza e con partecipazione. Bene, vi ringrazio di essere qui, di aver dedicato un po' del vostro tempo, vi auguro buon lavoro e a presto, grazie. Grazie, grazie.